Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo del diario della gravidanza. Anche questo video fa parte della playlist dedicata ai bambini. Oggi vi parlo di un'idea regalo per una futura mamma ed è il diario della gravidanza. Qui alle mie spalle trovate già il calendario della dolce attesa, ho già realizzato un video, lo trovate qua nelle schede, ma oggi invece parliamo di questo diario, che è un'altra idea regalo economica per una persona in gravidanza. Prima come al solito vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare ogni giorno nuovi prodotti. Iscrivetevi cliccando qua sotto sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere e qua sotto in descrizione, oltre al link per acquistare questo prodotto, trovate il link anche al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora parliamo subito del diario della gravidanza. Si tratta in realtà di un quadernetto veramente molto molto carino, dal prezzo ultra economico, quindi perfetto anche per un pensierino, magari per una persona che vi ha annunciato la propria gravidanza ed è una soluzione perfetta per andare ad annotare tutta una serie di ricordi di questo momento. Infatti è un'idea semplice ed economica su cui la mamma potrà annotare una serie di aneddoti di queste 40 settimane che vivrà prima di arrivare al parto. All'interno di questo librettino si potranno quindi celare 9 mesi di vita che magari in un futuro si potranno rileggere col proprio bambino o bambina andando quindi a condividere quell'esperienza vissuta durante i 9 mesi di gravidanza. Inoltre questo diario potrebbe essere anche un ottimo modo per sfogare le proprie paure e le proprie emozioni. È strutturato in modo molto semplice indicando appunto la settimana, come mi sento, aneddoti particolari e le mie emozioni. Quindi potremmo decidere di andare a scrivere un vero e proprio diario settimana per settimana per raccontare appunto il proseguo della gravidanza. Per quanto riguarda poi il passaggio al mese abbiamo appunto la possibilità di annotare il peso, la data di visita di controllo, i sintomi particolari e eventualmente anche gli esami e i relativi risultati. Inoltre abbiamo la possibilità di andare a inserire una foto mese per mese in modo tale da vedere anche un'evoluzione della crescita della pancia nel corso dei mesi. Questo in particolare non presenta un proseguo invece nella parte finale che invece è presente su altri diari della gravidanza. Questo però dalla sua presenta delle dimensioni compatte, infatti è un quadernetto A5, quindi un A4 diciamo piegato a metà, che permette di avere abbastanza spazio per scrivere i propri ricordi, i propri aneddoti, ma ci permette volendo anche di portarlo comodamente con noi e non renderlo quindi troppo ingombrante. Si tratta quindi di una perfetta idea regalo se volete fare un pensierino alla persona in gravidanza. Qua sotto in descrizione come al solito trovate il link per acquistarlo. Se avete delle domande potete lasciare sempre un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Io vi invito ad andare a vedere gli altri video dedicati nella playlist dove potrete trovare altre idee regalo come ad esempio il calendario della dolce attesa. Se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Per questo video con il diario della gravidanza è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensore per scegliere. Ciao da Enrico. Grazie. 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 Grazie.